Chi ha scritto le minacce può essere querelato tranquillamente, è la posizione dello staff Comunicazione 5 Stelle. Sbagliato a sostenere che si tratti di nostre minacce, perché sulla rete ognuno si assume le proprie responsabilità. Noi veniamo considerati eversivi perché abbiamo la fortissima volontà di difendere la Costituzione e il Parlamento dagli attacchi della Cassa. Non vogliamo offendere nessuno, anche noi riceviamo tantissimi insulti via web, ma non per questo ci fermeremo dal difendere un Parlamento sotto attacco e sotto assedio dei partiti.